Ma Cutrone verso Chessy, Suso, Suso sull'interno rispetto a Nagatomo, l'interno sinistro, Cutrone e sprocca il derby, Cutrone, Milan 1, si è tolta la maglia e l'Inter subisce la rete dopo 104 minuti di questo derby. E lui, l'uomo che dentro l'area di rigore ha una fame di fare gol, si è mosso dalla centroavanti, vero? Come lo è?